La porta per incontrare Gesù è riconoscersi come siamo, peccatori, e poi potremo fare festa, ma ci sarà sempre qualcuno, anche nella Chiesa, che griderà allo scandalo. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta, commentando il Vangelo della Conversione di Matteo. È un esattore delle tasse per i Romani, un traditore di Israele, ma quando Gesù lo chiama a seguirlo, lui lascia entrare il suo amore e lo segue. È l'incontro tra misericordia e peccato possibile perché Matteo si riconosce peccatore. Poi l'ex pubblicano festeggia la sua conversione con altri peccatori e con Gesù e la cosa scandalizza i farisei. Gesù risponde loro, andate a imparare cosa vuol dire misericordia. Ci sono tanti, tanti, e sempre, anche nella Chiesa oggi, che dicono, no, non si può, e tutto è chiaro, tutto, no, sono peccatori quelli, dobbiamo allontanarli. Anche tanti santi sono stati perseguitati o sospettati. Pensiamo a Sant'Anna d'Arco, mandata al rovo, perché pensavano che era una strega. è condenata a una santa. Pensate a Santa Teresa, sospettata di eresia. Pensate al Beato Rosmini. Misericordia io voglio e non sacrifici. E la porta per incontrare Gesù e riconoscersi come siamo, la verità, peccatori. E lui viene e ci incontriamo. È tanto bello incontrare Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti